Altra mattinata intensa per l'Avellino, il presidente Walter Taccone non ha voluto ricevere Massimo Rastelli che comunque in questi minuti avrebbe risolto il suo contratto con l'Avellino. Chiave per la risoluzione del contratto sarebbe il passaggio di Mariano Arini al Cagliari, una sorta di indennizzo tra il club bianco-verde e il club di Tommaso Giulini. Alla fine prevarrà il buonsenso, nessuna ipotesi di rottura totale con eventuali deferimenti o ricorsi al collegio arbitrale. Resta tutta l'amarezza del presidente Taccone che anche oggi ha preferito non incontrare il tecnico di Torre del Greco, ma l'Avellino ha saputo giocarsi bene la carta Arini per monetizzare anche più del previsto. Rastelli sarà libero di accasarsi al Cagliari e l'Avellino avvierà il nuovo corso con Attilio Tesser. Intanto questa mattina è stato presentato il nuovo estremo difensore bianco-verde Daniel Offredi. Ringrazio il presidente per avermi dato questa possibilità in una grande squadra e una grande piazza. Illustrato si è visto anche appena finito il campionato che è una grande squadra, una grande società e questo mi ha dato molto stimolo a venire qua. Si dà sempre il massimo durante la settimana per dare una mano alla squadra e crescere tutti insieme. So che è una piazza importante con molti tifosi che sono molto attaccati alla squadra e questo fa molto piacere.